Che intenzioni avesse la sconosciuta che voleva prendere in braccio una bambina di due anni che giocava in campo Santa Margherita è difficile dirsi. Probabilmente solo distrarre la madre mentre la complice la derubava, ma non si può escludere del tutto qualcosa di più inquietante. Fatto sta che da oggi il fronte del borseggio a Venezia si arricchisce di un episodio che getta un'ombra sinistra sull'atteggiamento sempre più spregiudicato delle bande che infestano la città. A raccontare cosa fosse successo e ad invitare all'attenzione chi avesse bambini piccoli che giocano in campo è stata la protagonista della vicenda in una chat di residenti. La donna ha visto una ragazza andare incontro alla piccola per prenderla in braccio. Distinto ha gettato la borsa sul passeggino ed è corsa per raggiungerla. Appena ripresa la bambina si è accorta che un'altra ragazza stava cercando di rubarle il portafoglio momentaneamente incustodito. Del fatto sono state avvisate le forze dell'ordine. Recentemente in un blitz antiborseggio la polizia ha fermato diverse persone tra Piazzale Roma e la stazione, tutte con a carico diversi precedenti per furto e furto aggravato, uno spaccato delle decine di uomini e donne, a volte insospettabili dall'aspetto comune, che quotidianamente agiscono organizzati in bande a Venezia.